bella bentornati sul canale del wrestling gamer allora oggi vi presento questo giochino il monorail stories che cos'è praticamente è una specie di simulatore di vita semplicemente ci sono queste due isole che vedete ecco che è collegato veramente da una mononotaglia dove ci sono due treni una che va uno che viene in questi treni ci sono le persone che si incontrano si conoscono che fanno amicizia e quindi ci raccontano la propria storia quindi è un raccontarsi storia vicenda e scoprire racconti di estranei completamente strani io direi di cominciare subito e vediamo un come a questo in monorail stories la sciarpa perduta lunedì lunedì mattina cittadienne oh my oh my surely this week couldn't begin in a worse way hi there girl everything okay you sure do look like hell and you have that look on your face and your lucky scarf on let me guess you just got in a fight with charlie again mark it was the worst i can't seem to find a way to make this work you did talk about that didn't you yup yeah i know that subject is pretty much a bombshell topic between you two of course it is sorry mark but i'm too exhausted to go over it again now i just can't okay okay well i suppose we'll chat again this evening sembra più grosso vabbè e al nipote d'azia o un altro personaggio 2 di mattina città di l città di m in direzione città di m i feel strange vibes everywhere today i hope this week goes by quickly ah ok la sciarpa guarda la sciarpa there's forgotten scarf on the seat what should i do with it now ah ci possiamo muovere fantastico i don't know much about him but definitely a creepy person not a chance that's josefka she's a nurse amazza che la conosce josefka is this scarf yours i found it on a seat hi am all good morning to you no i don't like scarves very much so look how many delicious things in here cassetta di cose là this old lady is carrying a gray cat good morning ma'am sorry to bother you but i found this scarf is it yours by any chance a scarf oh no it's not mine i remember seeing a girl with it but i can't really tell when you should put it in the lost and found box thanks ma'am what a cute kitten you didn't meet the scarf girl did do a good deed and put the scarf on the lost and found box oh thank you sir i found this blue scarf somebody forgot it on a seat oh good day to your young man well you could ask around for the owner or you could put it in the lost and found box over there thank you sir what a great game people are always complaining about penalties well whatever a win is still a win just this is a lost and found box i even forgot it was there done i hope that the rightful owner can find it again i'm not so precise c'hanno pure il box dei getti smarriti l'idea è se le cittadienne if my karma isn't totally rotten i should find that scarf somewhere am i right keep it together sylvie all right let's see uh come on sylvie think what kind of code some train guys could come up with i'm sure it's a super complicated code the lost and found box maybe my scarf is in there what i need a passcode to open it but the light is green well at least that should mean something good i don't know anything about her hi there i'm looking for a blue scarf have you seen one around here i see many things no things that can be seen things that cannot be seen things that cannot be seen things that should be seen and things that should not wait what that is the power no sorry help me find a synonym hmm l'importanza l'imperativo la missione il fardello la responsabilità the responsibility yes the responsibility of the writer we blessed with the craft i was just looking for and born with the gift the gift to create worlds stories to feed hungry and yearning souls noble spirits burning with passion and inspiration yeah uh well but i words that become swords fireballs fantastical realms elves powerful gods horrible demons that clash in a never-ending battle between darkness and and what about my scarf what scarf my blue scarf oh no sorry i haven't seen it ok ok c'ho le di pionna c'ha miseria no some brave soul is already in there mhm giusto c'hai ragione pure tu a mother with her hi i'm looking for scarf uh perhaps you've seen it it's blue ma guarda che aereo là fuori iiii no i haven't seen it sorry you could try to check the lost and found box i've already checked it out i've already checked it out but i need really a passcode luckily bobby never lost anything on the monorail so i never used it passcode okay thanks anyway me fari david yeah yeah control over here is that for me good day sir i have lost my scarf on the train do you know something anything about it i haven't heard anything about a scarf have you checked the lost and found box yes i've already checked it out but i need a passcode to open it could you please tell me what the passcode is well i would but i am not sure i remember it correctly it begins with ninety four or eighty one or seventy seven well i don't remember it so well oh yeah thirty four are the last two numbers of that i am sure okay quindi 34 sono gli ultimi due numeri well thanks quindi tornamo indietro 34 sono gli ultimi due quindi eccolo vabbè dai non è difficilissimo sono soltanto uno due tre prove si vabbè scusate ah vi perso come on sylvie think that's a real complicated code for sure all right come on 77 let's have a yeah c'è sta solo questo è come prima possibile di damn this thing is still locked he's mark oh mark i've left my blue scarf on the train tragedy haven't seen it around here though maybe in the lost and found box yes i've already had a look there but i need a passcode to open it are you serious that's crazy that is it you up for talking about charlie not yet sorry don't worry i've never tried a single thing that is in there i wouldn't be surprised if I find something living in there some day. I'm sure you'll get someone to help you with it. Thank you very much. Quindi adesso lui cederà le prime due e quello ci ha detto le ultime due. Ecco, questa è la carezza veramente il gatto. Oh, so soft. Buongiorno, signor. Ho perduto la mia scarpa dal treno. Siete se magari qualcuno lo ha trovato? Hmm, è difficile ricordare. Ma sembra di ricordare qualcosa di una scarpa. Hai guardato la boxe perdita e trovata? È stato un tempo che qualcuno lo ha usato. Potrebbe essere in là, ma... Ma ho bisogno di un passcode per aprire, ho già conosciuto. Poi mi potrebbe dire qual è il passcode? Eh, scusate, ma oggi la mia mente è un pocchio. Credo che si comincia con 12. Il resto non mi ricordo. Andiamo, ah, su 12. 1, 2, 3, 4? Ma veramente? Infatti sì. Come è possibile per qualcuno di forgetta il passcode così stupido? Oh, qui è. Wow, questo è fantastico. Che rilassamento. Quindi ci sono ancora alcuni decenni persone qui qui, eh? Già, sono stato io modestamente che te l'ho ridata. Lunedì sera, città di M e città di L. E ora chi va pagare tutte le tasse? Oh, che un pocchio. Scusate di intrudere. Tutto tutto ok? No, non allo. Mi lasciano andare. E io lavoravo là per anni. Sempre la prima di arrivare e la prima di arrivare. Beh, siamo in una stessa situazione Allora, aspetta, Silvio è in mattina Città di M, città di L Risposta gentile a Marca Messa la sciarpa nel box Lunedì mattina Silvio lunedì sera Hai trovato la sciarpa Ah, ha parlato con roba Ok, quindi abbiamo fatto lunedì Gattostrovi Oessi A carrier? Oh, no, no, my dear She's a quiet one She just sits on me She does it all the time That's quite impressive She's a brave cat Aren't you, my dear? Brave kitty Yes, indeed, dear Bobby Do you like her? You can pet her if you want Pet kitty? Sure, but you have to be gentle Gentle Say nothing, Silvio Say nothing No, my dear one Please come back Oh, yikes What the fuck? Povero gattino Ancora la pianghi? Quanto tempo è passato? C'è la miseria Young man, please You have to help me What's up, madam? Is everything all right? My little one She got scared She ran away You have to help me find her Please Are we talking about a cat, right? Yeah, I'll look around for her She can't be too far Please Poor dear Bene, ragazzi Abbiamo visto un po' come funziona questo In monorail stories Quindi ci sono due personaggi principali La ragazza e il ragazzo Con cui interagiamo Con anche con le altre persone Quindi sono vita quotidiana Quello che succede su una monoraila Interessante E vediamo poi come si svilupperà la storia Bene, come sempre Se vi è piaciuto il video Mettete un like E ricordatevi soprattutto Iscrivetevi al mio canale Wrestling Gamer Ciao E alla prossima